ma non lo so scusa non ti sto sentendo il frano cioè sto giocando io mi sono compratto il palazzo l'ufficio? il palazzo l'ufficio? la casa quale? l'eclipso Ares quanto hai pagato? 250.000? no di meno 900 9000 quanto? 9000 90.000 non 9000 vabbè sto guardando se sei nella mia sessione ma non penso eh infatti faccio cercare amici anzi no faccio amici creda io infatti ci scommettevo di enti che mi non riuscite a partita in quanti siete? da me 24 dovrebbe farmi unire ti faccio vedere la mia nuova presto è fin da me anzi no ma non ch guidelines No No Uai Doris Porco zio Vaffanculo Ok sentate Prendo lo mio oppressor E vengo Ok Dove sei? Io cosa mio L'hai pagata 500.000 quella No Sì Quanto hai shoppato genti? Niente Sali Cioè anzi scendi la macchina Vieni Che vaffanculo No vabbè Io vengo a prendere la tua macchina Che poi razza intorno è bella Non ti faccia venire a prendere No Ma dove vai? Che palle Vieni Avevo a funzione Mi fa troppo ridere Dove sei spawnato? Posso fare un test veloce gentile? No no fermo fermo ti prego ti prego Fallo come amico ti prego Ok Mettiti davanti al turbo Aspetta Oh davanti Davanti Mettiti in furtiva e vai davanti Anzi fermati Sono morto Ti ammazza? Sì E quando accellero normalmente no? No Cioè quando non uso il turbo proviamo? Lo faccio così Aspetta eh Parti tipo a tutta velocità No Minchia Minchia Così? Un poco Ma che adesso ho usato il turbo di prima Hai tanta vita? Un poco Metà Un quarto Ti ho preso? Sì Sei volato? No Secondo te Dove cazzo sei? Arrivo Ti spingo? Ti spingo a casa tua? Va che io volo eh Se vuoi sapere No dai Non è entrata nella macchina Sai che sto scherzando eh? Sì Non può entrare nella macchina No Non lo prenderai Cura Non mi ha preso i freni Non volevo investerti cosa con 70 cattiverie Vieni amico mio Ti abbraccio C'è una polizia in veste in polizia No ho preso fuoco Gentile Sì Ti farò esplodere Nooo Abbiamo morto Abbiamo morto Cazzo Cazzo è rimarrato Io? Perché come rido? Oh io rido come... No te non scherzi Tu fai bastardo Di la verità che sei trombato a mia madre Divi Mamma Perché hai un altro figlio? Che si chiama Bene Dimmelo Ah perché andava bene con mio figlio Ah ok L'altro sta morendo e non va bene Oh gentile Guarda la mia nuova auto da corsa Bella vero Non ci provavo Io posso volare bastardo Sai che se vado sotto a velocità posso spostarti da macchina a questa moto? No Mettiti di traverso Di traverso Eh ho capito Gentile Va bene Girati bene Sembra un coglione Vediamo di velocità Vai tutta velocità a dritto di là Quanto lagghi No non sto laggando È la velocità No Ho 32 di ping Ok sei risistemato 8 Ma sai cosa anche? È vaffanculo No Mi sono incastrato Mi sono incastrato Mi continua a fare andare avanti e indietro la mia moto Dove sei? No Mi è ricaduto Oh Eh no Non ci provavo? Oh no 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 dai Non entri in casa eh? Non è questa casa tua Hai sbagliato casa Gentile perché sei venuto in questa casa? Così Ma non è la tua Lo so Eh questa è la mia No Ricchione Bella Cristino Cristino? Cristino Ah Ma stai Io ce l'ho raggiunto Io ce l'ho raggiunto Poi ho Ho esploduto la giuquadetta con una sola cannonata di cangiore Cioè questo è il disco Oh puliziii Grazie Eh Ma è tutto bene dai Ma va qua ancora Ciacco prima polla Chi spari? Ok Come? Come ho fatto? Tu? Eh devo spendere 10 mila dollari Oh genti Eh? Vieni qua Ma te la faccio provare Non ci salgo nemmeno che la faccio provare Aspetta un'altro Ma dove ti doi tutto quello Dori sono mogli li faccio io gli scarsi Ma forse lo sparo io Ma forse lo sparo io Eccomi Quanto me lo sparo vicino Muore ma Eli Dove? L'anno Porco zio, sono morto Ma perché sei sceso? Ho sbellato tutto questo Ma te la prendi, l'ho preso Vai E va a fa' un culo se tu Beh io ho messo amici, tu ci puoi continuare a salire? Sei tu che scendi Continua a buttarti Il puncino sei tu Su dici zio Tu ci puoi salire Guarda la continua a prendere Mi viene a prendere Sto a piedi E anche io sto a piedi Mi ha mandato l'offresser via Ma devi imparare a guidarlo Qua è la prima volta Andre ma tu stai facendo la live? Sì Grandi Anche io Come ti chiami su Twitch? No, su Youtube Come ti chiami su Youtube? Micro Scrapers Il luogo è blu Come la mia moto Sì Ma c'è uno che ti insegue Vieni qua gente Aspè Che bella la macchina Dove sei? Sei qua? Perché sei sceso? Ma non sei caduto? Ma a me piaceva quella porta Ma a me piaceva quella porta Eheheh E' uno stanno Ma ora stai senza vedere Eheheh no Ho mortato il civile Si è mortato il civile Che sciò Eheheh Ma ti ho preso? Ma sei un campidogno Ma cosa vuoi? Ma perchè a me? E' la polizia? A me E' che ho spinto E' che ho spinto contro la macchina Che rispetti se ma poi quando hai la polizia? Sì Stai stavo chiamando il meccanico Il meccanico? Il meccanico? Mh Cazzo mi sembra il meccanico L'essere deve chiamare non il meccanico Ti vede che giri da tutti gli angoli Ma con la fretta a tutti Ti prendo in tre secondi Che Oddio Muori Esplori Esplodo vicino a te Eheheh Eheheh Ma perchè continua ad esplodere la mia presa? Eheheh 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 Ma perchè continua ad esplodere la mia presa? Ma co... Io devo pagare 10.000 ogni volta Eheheh Eheheh Guarda 10.000 10.000 ogni volta Eh 8 secondi Devo aspettare Porco dio Porco 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 Questo porco lo voglio Solo i preti Ehi Hel içeri Ehi Ehi х ti vengo a prendere sali si guarda il civile guarda il civile gente guarda lo vedi? si lo vedi ancora? si è morto dov'è data? al cimitero e ma è scomparso sai che so più veloce io di te no va che ti puoi scontrare su di me mi fai volare guarda guarda davanti a te mi fermo davanti a te però sei un bastardo tanto io volo tanto io volo si è minato eh hellooo cazzo previato il palo aspetta vabbè io vado a casa mia no no venni a casa mia così ti faccio vedere la casa la casa lo so sono tutti uguali il garage ah beh il garage perché la casa sono tutti uguali grande quella da un milione deve pagare pure gli interni aspetta che ho fatto la mia oppressor ma io vorrei l'ho presto modificata con i razzi sarebbe più bello dai sali così eh bene vado avanti al tuo garage ok aspetta che voglio far la roba del turbo con un civile sono al citofono suoni al citofono no perché ma sei un coglione perché perché si ma fa che vuoi farmi entrare sogniamo il citofono comunque c'è una roba stranissima perché su gta non ha senso perché prima sono al citofono poi devi scegliere a chi citofonare non puoi fare prima scegli e poi citofono aspetta arrivo e ti devi muovere da un lato pieno eh si gentile dai ma non c'è un cazzo c'è da mettere a zentorno c'è una moto e quindi cioè quella che usavi sempre da me è una cosa nel leggi un mare ma ho detto tanto, 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 aspetta sto volendo una roba in no shop can we can't see that if I can go, oh mio amore, oh mio amore, oh mio amore, oh mio amore, quanto l'hai pagata da zentorna? 7.000 700.000 vabbè eh no, eh, oh è 7.000 o è 700.000 ma che ca... oddio è così porcellino? perché la parte spiega il canale? oddio cosa ho sta roba? ma perché ci stiamo guardando i giocatori? boh oh no, io non voglio vedere questi canali, voglio vedere i porcellini questo è del canale qual'è la mia moto? guarda l'ingresso è questo porcellino? sì sì va, fai indietro eh, tre uomini e una donna? oh, torna indietro, coglione sei proprio rimbambito te la sali con la mia macchina sei gay? no allora guardiamoci la tettina che poi c'è il sito su internet, lo sai? lo so ma perché sto quasi mangiando i giocatori? da, sali ma che macchina del cazzo è? fammela guidare no sì no no non ma poi sta guardando guarda 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 Sto twerkando con la moto Sto twerkando con la moto Sto twerkando con la moto Andre, lo facciamo? No, io volevo fare altro, penso, sennò facciamo sempre il colpo Un gara molto piccolo Non lo so, magari qualche gara mi vuole anche fare un po' altro, capito? Per cambiare E' un po' il cazzo, fare sempre le stesse cose E' l'unica cosa che... Eh, lo so, lo so, a me era un po' il cazzo, lo so La gente una volta faceva sempre le casse, che tipo quello lì di magazzia, e me era un po' i coglioni Io sto facendo una roba bellissima Che coso? Mi metto vicino ai vicini, eh, sei vicini Ai civili attivo il corpo dell'oppressor Una roba bellissima, la volano via Ah-ha, sì, sì, questo va fare molto bene Molto place che hai, molto chic Nothin' like a bourgeois bank robber To remind me of how strange Los Santos has become In my day, the psychos at least had the dignity to be psychotic In our days, it's all about, uh, home furnishings and going straight All right, you ready? Because, this, is it Well, it's, it's not, it But, uh, it's something, it's something, uh, very big And it's not quite ready yet But I wanted to, uh, see how you're doing What I've got, is a Flisa bank franchise And it's nothing too complicated There's no buy-in Normal, there would be a buy-in You would put in money up front, we would arrange the job And you would pull it off But this time, I'll, uh, cover the up front cost Call it the, uh, price of getting a look at you And there's no risk to you Unless, of course, you count, uh, getting locked up Or shot So? And what do you think? Uh, questions, comments, concerns? All right, what are you waiting for? Let's go see this place Gentile Eh... Fai cantare portellone Non sarebbe che chiamate Nel camion In che senso non sarebbe che chiamate E niente, queste volte asco da chiamare uno per dire una cosa Dirgliela direttamente Perché chiamate? Non capisco Cioè, qual è il problema? Perché tu chiamate? Perché poi sarebbe che lui ha staccato le cuffie Ho capito Eh, posso andare un attimo in... Il bagno Eh? Posso andare il bagno almeno Eh, buona, devi chiedere a me Vai che sono il tuo padrone, eh Eh? Lui Ma... Sì Ci sentiamo a dire che poi si incontrano Chi è Manuela Mascardo Ssssssssss comunque sarà difficile ma che cosa ammetto organizzi un raduno ma anche se non erano ieri guardi ho realizzato un raduno questi corsi di macchina ok non si ma il non non io ho 40 spi 3 3 macchina ah mi sta dicendo alunino di macchina macchina manuel mascar è veniva il mio e si è scritto st manuel mascaro si chiama ammessi qui ci sono i miei ammessi facciamo a venti tu e venti io di scritti va bene sto guidando la mamma è una macchina fighissima l'ho rubata devo portare la garage e night club ho distrutto il carico gentile puoi venire da me ruvo un bicottero qualcosa mi carriorgentemente sto facendo di colpo come faccio ruvo un bicottero qualcosa velocemente tu puoi gentile no gentile madonna non qui per favore sono in fondo mappa sto per morire perché ci sono qualche delle persone che mi sparano e muori cosa devo dire è il carico del night club ti dai soldi ti dai soldi eh l'ho chiamato non so che qua non so come salire che cosa hai chiamato l'elicottero corri ti aspetti devi pigliare un carico e dobbiamo andare al colo quanto ci metti rimando e ma di cui che ne so io sto in spiaggio sto in tempo di mancavano due minuti mancano due minuti due minuti e dieci due minuti e nove sette niente e spazio l'esplante coppia finita di infatti adeguare non c'è niente ma soltanto risposta albio è perché ho preso di più un ponte sono volato giù mi ha pigliato un ponte e sono caduto Ma tu non ci sei neanche nella mappa Eh, sto facendo il colpo Ma da solo? Sì, e no, è uno Ma chi cazzo fa il colpo? Mi serve due soldi Ma ti ridavamo anche sta roba Dovevamo portarla solamente a un garage E tu? Ti davamo un po' di soldi Eh, non posso, per quello mi servivi tu, eh Andai tu, che appena che si aiuto per qualcosa E tu Mi chiamo che piglio a sparangatene E cade Che personaggio di merda Dai, esplodete voi Posete esplodere E Vare il carico! Mi ha dato 4.000 dollari senza aver consegnato niente. Ma... ... Ma... ... ... ... ... ... ... non è assoluto, sta prossima, mi sono non è scuola tu nico non è domani in scuola nico andre ma cosa fai? non voglio giocare io non voglio il cazzo a fare se lo guardo sulla pressa che non mi sto muovendo non è scuola non è scuola non è scuola ok 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 ora Paige will set up a board for you won't you Paige I'd let you do it if you could reach I mean I didn't see any milk crates for you to stand on the most important thing to look for in an employee is respect you can't get anything done without respect where was I oh yes yes room Paige is setting up this board on which you will plan your scores you'll use it to set out all the prep work you need to do select your crew figure out how the take from a score should be split up you need a crew to take a score but only one person can be in charge respect isn't that right Paige follow me you're only going to need one thing for this job it's a high speed armored car instead of getting one legitimately and leaving a nice long paper trail to your front door you're going to be jacking one from a nasty Korean crew and leaving a nice long paper trail to their door instead this is good to go okay here's your board good 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 when you're ready to move on the car go over it study the plan and tick it off the list you must be methodical this isn't just a dumb crime oh there there is an element of that huh and when you've got the car we'll come back here and talk bank jobs 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 No. Sì E adesso stacco le confiate per 5 minuti Sì Non so che cazzo vuoi, hai capito un po'? Cioè non so proprio So solo che mi rompo il caso sempre fuori Cioè Fate quello C'è un gioco così vasto, così pieno di cose, capitami da noia, far meglio ne basta Perché veramente è un gioco pieno di attività, gare, chi più ne ha più ne metta C'è sempre solo una cosa, allora pigliati FIFA Almeno c'è sempre solo le partite Fare un incredibile di testi a posto Olive of Legends Che cazzo c'è scritto qua? C'è da boss che è venuto a scrivere quello che sto ammazzando Non ce ne vede Che cazzo 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 cazzo, non ci vedi E' un po' di sottopoli Grazie a tutti. 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 domani pomeriggio. va bene. ciao. Ciao. a tutti.